L'Olimpica Basket ritorna alla vittoria. Nella quarta giornata del girono di ritorno del campionato di Serie C Silver, i ragazzi allenati da Giovanni Gesmondo espugnano con autorità il parchede da Juve Trani per 65 a 53. Gara a ritmi altissimi sin dall'avvio con gli ospiti che macinano gioco e grande spettacolo, soprattutto con l'arrivo del nuovo acquisto da Nandardi, fortemente voluto dalla società per dare una scossa alla squadra. Gli effetti si videro subito. I padroni di casa gialloneri allenati da Coccia Scucimaro fanno fatica a rimanere nella scia di giallo-blu, che a fine primo tempo chiudono avanti 39-27. Apertura di secondo tempo con un Bacchini strabitoso da tre, Teofilo che stoppa un paio di attacchi tranesi, unitamente a Di Giorgio, autore di una prestazione superlativa. Il resto della squadra c'è e riesce a dare la giusta dimensione ad una stagione sfortunata per l'Olimpica fra infortuni ed addi non preventivati. Con la vittoria odierna si pone una tregua a una sequenza di sconvinte che gli hanno lasciato un segno più che evidente. Ora settimana di intensi allenamenti per preparare la gara casalinga contro Castellanita, sconvita dall'ardò per 82-75.